Musica Angelica, ovviamente dicevamo prima proprio all'inizio dell'intervista tu ti occupi da anni di arte, spettacolo, musica e in questo caso di cultura. La mattina alle ore 11.30 ci sarà la scuola in Audi di La Maizia Terme, quindi gli studenti, partiamo dalla cultura, partiamo dai bambini per insegnare loro il rispetto per la natura e l'emozione che dà magari, non lo so, addirittura abbracciare un albero. Allora non ci saranno solo gli studenti delle in Audi ma ce ne sarà anche qualcun altro. Abbiamo voluto fare una replica dello spettacolo che è uno spettacolo serale. Lo spettacolo tra l'altro è alle 19.30 ed è volutamente alle 19.30 perché noi desideriamo che la gente venga rilassata a sentire il concerto e se ne vada via per l'ora di cena e abbia tutta la serata libera per riflettere, cenare, ci piace il relax ed è quello che ci insegnano gli alberi. Così abbiamo pensato che era giusto dare l'opportunità di vedere una cosa così particolare dove alla fine c'è anche una piccola sorpresa che però non svelerò assolutamente qua. Era giusto dare l'opportunità anche agli studenti di soffrire di uno spettacolo del genere. Ovviamente per gli studenti abbiamo fatto un'edizione per la mattina. Dura da di meno? No, diciamo essendo un evento dedicato alle scuole abbiamo fatto in modo di organizzarlo in maniera diversa con dei piccoli accorgimenti proprio dedicati agli studenti perché comunque l'educazione ambientale è un'esigenza adesso tant'è che è stato realizzato un protocollo di intesa tra il Ministero dell'Ambiente e il MIUR. Però i progetti che vengono presentati ovviamente ancora non sono tantissimi e soprattutto non sono orientati in maniera artistica. Io che ho studiato veramente tanto e tanto tempo arte e cultura per me dire che utilizzare l'arte per trattare temi sociali, temi ambientali e fondamentale è quasi superfluo perché l'arte non è solo esibirsi o dare soddisfazione al proprio ego o fare qualche cosa che magari, recitare Goldoni che è un grande privilegio poter recitare Goldoni però accanto alla capacità di recitare Goldoni ci deve essere anche la capacità di essere contemporanei perché questa è una cosa che voglio sottolineare tutti i grandi del passato sono stati contemporanei del loro tempo suonavano, conoscevano, interpretavano anche i loro maestri dell'antichità ma si sono preoccupati di essere contemporanei e noi dobbiamo fare la stessa cosa preoccuparci, curare l'antichità, quello da cui proveniamo, studiarlo, rispettarlo ma cercare di essere contemporanei perché sennò l'arte muore